Ciao ragazzi, riconoscete la location? Oggi shooting a tema Barbie Andiamo a fare un make-up super rosa e adesso vi spoilerò anche la location Guardate con chi sono Ma no, è molto buono È bene così, dobbiamo essere molto Vado ad utilizzare questo rosa qui, bambolina si chiama Abbondo sia sopra che sotto l'occhio per dare un bel tocco di rosa Poi andiamo con questo shimmer, sempre rosa, però super ben montonato Barbie passione e cani, avviamo E questo è il set, non vedo l'ora di vedere il risultato delle foto Non è abbastanza rosa, quindi adesso utilizzerò le risorse di Pamela con questo rosa shocking Sia neanche così abbastanza rosa, non so più cosa inventarli Lui entra nel shooting Non possiamo non mettere il blush extra rosa per dare appunto un po' di rosa in più Ora siamo al rossetto e da voi vi faccio vedere l'outfit Ok, più rosa è illuminata di così, credo che non si può Ho provato l'illuminante di Pamela che ti mette direttamente una lampadina dentro gli occhi Purtroppo sembra l'illuminante Ora andiamo con il rosa shocking anche di l'altra Ok, un po' troppo forte ma ci stessa aggiungerci anche questi O poi diventa tipo troppo e sembra un clown Ma sì, aggiungiamolo Ora passiamo all'outfit, tanto perché da che te me l'ho fatto vedere L'altro non mi stava bene, quindi l'outfit è questo È molto più Barbie, ora andiamo a pensare ai capelli Il risultato sull'altra cosa Ciao, Barbie Ciao, Ken Ciao, Barbie Ciao, Barbie Ciao, Barbie Ciao, Barbie Ciao, Barbie